In questo pomeriggio siamo all'orto botanico di Palermo per vedere la mostra di mercato, la zagara, dove abbiamo l'esposizione delle piante rare e da collezione e frutti storici. Tutto questo nella bellissima cornice dell'orto botanico di Palermo, che rappresenta uno degli orti botanici più importanti dell'Europa del mondo perché ha una collezione di piante molto numerosa, di circa 14.000 piante. Sei un giovanotto. Un giovanotto. Un giovanotto. Mi chiamo, buono tu qua! Sei un grande. Del in marchi. Ora vengo. Un po. 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 io mi sono andato perché ho fatto tutto non so se lo trovi ancora in giro anche io non l'ho visto non l'hai visto? no poi io mi sono scargato il telefonino quindi non mi sono andato ma tu non mi hai fatto niente? si fa è freddo questo non è male questo si ha fatto si questo si ha fatto si questo si ha fatto con l'accetto non me lo prende poi non lo prendiamo devi prendere qualcosa? troppo non le possiamo che sei carino che sei carino che è una fortuna è una fortuna Grazie.